Ciao cari lettori, oggi parliamo di libri, a differenza di fumetti, vorrei parlare anche di libri, lo abbiamo già fatto una volta e lo rifacciamo. Parliamo dell'incredibile storia di una bambina nata da un fiù, di questo bellissimo, questo veramente, veramente bellissimo libro che mi è piaciuto veramente, veramente tanto, con questa copertina spettacolare, scritto da Fabrizio Piccio, mi pare anche le illustrazioni fatte da lui, test e illustrazioni di Fabrizio Piccio, le illustrazioni sono qualcosa di bellissimo, veramente, veramente bello, guardate, veramente bello, la copertina è bella, ha la sovracoperta, quindi è anche una cosa abbastanza carina e creativa, ecco, con questo giallo veramente, veramente bello. Iniziamo subito parlando della mia, della trama, ecco, che in realtà è anche scritta qui, ma io ve la vorrei raccontare a modo mio, ma questa mamma che, tengo gli appunti proprio qui, la signora Tetti vorrebbe tanto avere una figlia femmina, finché un giorno, quindi lei, questa mamma aveva avuto una bella famigliola grande, indovinate un po' tutti i maschi, quindi lei continuava a fare i figli fino a quando aveva quel sogno di raggiungere, di creare una figlia femmina, finché un giorno, mentre ero in cortile, mentre piangeva, comparvero dei cespugli sotto a una specie di fognatura, ecco, quindi la signora Tetti e suo marito iniziarono a innaffiarlo sempre di più e questa notizia andò ai rivali del mondo, di tutto il paese. Fiorella fu chiamata questa bambina proprio per la sua nascita da un fiore, aveva i capelli lunghissimi e si disse che se avesse tagliato i capelli, la bambina sarebbe morta, ecco, e lei iniziò a vivere un sacco di avventure e incontra un ragazzo giapponese e così alla fine della storia la bambina andò a tagliare la ragazzina, che ormai era una donna ben anziana, andò a tagliare i suoi capelli e quindi si sentì per la prima volta libera di vivere. Inoltre lei sarebbe rimasta viva fino a quando non si sarebbero torti quei fiori, però quindi aveva potenzialmente una vita immortale e quindi ne era davvero soddisfatta. Vediamo che i disegni sono bellissimi, veramente, veramente belli, vediamo per esempio qui e niente. Ora giro la telecamera molto velocemente e darò le mie opinioni personali per qualità è giusto approcciarsi alla lettura di questo libro. Per qualità, secondo me, ma io direi che la lettura di questo libro può andar bene per tutte le età, dai 10 anni, pure dai 7, fino all'età adulta. E' quel libro che ti metti lì, lo leggi in mezz'ora, l'ho letto in un'ora, dai diciamo un'ora e mezza, l'ho letto in un'ora e mezza ma che veramente, veramente ti fa sognare. E nulla, io spero che questo piccolo video vi sia piaciuto, domenicale ovviamente, perché ricordate che pubblicherò il giovedì la recensione del topolino e la domenica sempre un video, sarà un video acquisti, per esempio, un video che può essere unboxing, oppure una storia di topolino, un numero particolare, come può essere un sio paperone, un topolibro, un paper sera, qualsiasi cosa. E nulla, io vi ringrazio e vi do un appuntamento, alla prossima, ciao!